Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video del laboratorio di Excel per tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come suddividere il testo in colonne. Bene, entriamo all'interno del nostro foglio di lavoro, abbiamo i nostri dati, dunque abbiamo dei nomi e dei cognomi separati da dei punti e virgola. Questo potrebbe essere il caso dei file di tipo CSV che sono delimitati da virgola o da punti e virgole. Bene, ora utilizzeremo nel primo esempio il comando chiamato testo in colonne e nel secondo esempio suddivideremo il testo in colonne utilizzando un ulteriore strumento chiamato anteprima suggerimenti. Partiamo dal primo comando, testo in colonne. Dunque, vado a selezionare l'intervallo di dati, faccio un clic su testo in colonne, il comando che si trova all'interno del gruppo strumenti dati della scheda dati e mi viene mostrata una finestra di dialogo chiamata conversione guidata testo in colonne che è composta da tre passaggi. Il primo passaggio chiede di scegliere il tipo di file che meglio sia adatto ai dati. In questo caso si tratta di dati delimitati, infatti il delimitatore è rappresentato dal punto e virgola. Dunque i dati sono delimitati, andiamo avanti. Nel secondo passaggio dobbiamo specificare il tipo di delimitatore, dunque in questo caso il punto e virgola. Come vedi Excel ha già capito come suddividere i dati, dunque andiamo avanti. E nell'ultimo passaggio dobbiamo definire il punto in cui andranno inseriti i dati. Al momento la destinazione è B5, ciò significa che i dati andranno a sovrapporsi, a sovrascriversi rispetto ai dati precedenti, dati già presenti, ecco. Ora cambiamo posizione, anziché B5 gli diamo C5, in modo tale da mantenere anche i vecchi dati. Qualora volessimo sovrascriverli potremmo farlo semplicemente selezionando la cella B5 oppure mantenendo così come era invariato il riferimento. Facciamo un clic su Fine e come vedi i dati vengono suddivisi in due colonne. Andiamo ad allargare per visualizzare meglio il contenuto delle colonne. Nella prima colonna abbiamo il nome e nella seconda il cognome. Passiamo al secondo esempio. In questo esempio vedremo come utilizzare lo strumento chiamato Anteprima Suggerimenti, in inglese noto come Flash Fill. Dunque, cosa dobbiamo fare in questo caso? Non c'è nessuna procedura guidata, ma dobbiamo semplicemente posizionarci nella cella C5, in questo caso, e scrivere Maria Luisa, ovvero il nome. Diamo l'invio, scriviamo nella seconda cella Marta, in modo tale da permettere a Excel di capire quello che è il percorso di estrazione. Excel ci dà quest'anteprima, dunque diamo l'invio e come vedi abbiamo estratto tutti i nomi. Ora allarghiamo un attimo la colonna, procediamo con i cognomi, scrivo Verdi, successivamente scrivo Gialli, o meglio accenno la scrittura di Gialli, Excel ha capito quello che è il percorso e diamo l'invio. Benissimo, a questo punto abbiamo suddiviso i nomi dai cognomi, abbiamo suddiviso ovviamente il testo in colonne, separando in questo caso i nomi dai cognomi. Bene, spero che questo video ti sia utile, se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti per rimanere aggiornato e ti aspetto al prossimo video.